Serie B Win, tutti i colori della passione. Subito il Verona in avanti con questa iniziativa di Alfredson sulla fascia di sinistra. Il cross dell'islandese mancato di un soffio da Pickleman al centro dell'area avversaria. L'austriaco sostituisce in attacco lo squalificato Ferrari. Ancora Ellas, ancora Alfredson, palla all'indietro per Corito Gomez in sinistro. Quasi a botta sicura si mola Antonio Marino per sventare la minaccia. Angolo di Giorginio, palla sul secondo paro. Rispinge a Dejo la botta di Taksidis, respinta da una difesa della regina in difficoltà. Di nuovo Giorginio, il cross svetta, ma il pallone è debole, facilmente parato da Pietro Marino. La regina fa fatica a uscire dal proprio guscio. Ventottesimo, grandissima azione di Juanito Gomez sulla destra. La palla morbida, messa in rete di testa da Thomas Pickleman. È meritatissimo il vantaggio dell'Elas Verona. Esplode la curva del Bentegodi per Pickleman. Terzo gol in sole cinque presenze in questa Serie B win, ma tre quarti di questa marcatura è merito di Juanito Gomez. La regina finalmente reagisce, c'è questo tocco di Ragusa. Il giocatore dell'Under 21 di Ferrara, ancora Ragusa per Missiroli, che tenta un destro giro. Nessun problema per il portiere del Verona, Rafael. Inizia la ripresa dentro un altro attaccante per Breda. Ceravolo al posto di un difensore. Antonio Marino, terzo del secondo tempo. Attenzione, è proprio Ceravolo! Che di sinistro in diagonale fa la barba al palo. A Rafael battuto si fa vedere finalmente anche la regina, la reazione del Verona. È in questo tiro alto da parte di Abate. Ora la partita è vibrante ed equilibrata. La sponda di Ragusa. Attenzione, il pasticcio tra Mareco e Rafael. Non ne approfitta Ceravolo con il portiere brasiliano dell'Ellas, che rimedia il possibile disastro. Ora la regina è meno timida. Attenzione, il destro di Bonazzoli. Alato non di molto prova a pareggiare la squadra di Breda. C'è tensione nello sguardo anche di Mandorlini. Verona con questo cross dalla destra. Pickleman svetta sopra la testa di Adejo, ma manda il pallone alto. Altro angolo di Giorginio. La palla passa. Taksidis sinistro sul fondo. Le occasioni da una parte e dall'altra fioccano. Torna in campo dopo l'infortunio. Campagnacci per la regina. Fuori Ragusa. Contropiede per l'Ellas. Alfredson per Juanito Gomez. A destra Russo ha spazio per tirare. Ma il centrocapista numero 8 del Verona spreca tutto così. Doppio cambio per Mandorlini dentro. Doninelli ed Alessandro. Fuori Giorginio e il match winner per ora. Thomas Pickleman. Doppio scambio tra Bonazzoli e Missiroli. Quest'ultimo tenta il tocco di destro. Che però non trova lo specchio della porta veronese. Siamo negli ultimi minuti. Campagnacci dentro per il nuovo entrato Sarno. Rimedia Mareco in calcio d'angolo. Ora un po' in affanno il Verona. Ancora Campagnacci. Fugge a destra. Su scaglia il cross potente. Colpisce l'esterno del palo. Siamo nel tempo di recupero. Attenzione. Juanito Gomez è solo. Tenta il palonetto a scavalcare. Pietro Amarino. Non vi riesce. Ma è quanto basta per far vincere il Verona. 1-0 sulla regina. Per gli scaligeri. Sesta vittoria consecutiva.